Il professor Luis Sánchez Navarro è dottore in filosofia, in filologia greca. Lui ha fatto il dottorato nella Università Complutense di Madrid nel 1995 e poi ha ottenuto il dottorato in Sacra Scrittura qui al Biblico nel 2004. Attualmente lui è catedratico di Nuovo Testamento nell'Università San D'Amaso di Madrid, sempre. I suoi interessi sono certamente tutte le tematiche relative al Nuovo Testamento, ma anche le questioni di ermeneutica, io so che lui è molto interessato, anche il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi si muove in parecchi ambiti, sempre in collegamento col Nuovo Testamento. Certamente è membro dell'Associazione Biblica Spagnola, lui collabora moltissimo, un membro attivo, e poi anche membro della Catholic Biblical Association of America. Non posso qui fare l'elenco di tutte le pubblicazioni, ma ha otto monografie. Posso citare, per esempio, una che è stata molto ben apprezzata, negli ambiti almeno di lingua spagnola, il Logos del Reino, le Diez Parabolas di Matteo, che forma parte di questa serie, questa colonna dell'Associazione Biblica Spagnola, ABBE, in cui molti di noi abbiamo pubblicato. del 2013. E forse un'altra, anche molto rilevante, Una Luz para las Naziones, la vocazione universal dell'Evangelio, pubblicata nel 2014, nella Università di San D'Amaso. Poi ha anche coeditato numerosi volumi e articoli, eccetera, eccetera. E soprattutto anche svolge un ruolo molto importante nella rivista Studios Biblicos, che è quello di essere il capo delle redazioni. Forse come io anche faccio questo lavoro, mi sento molto vicina a lui. Ripeto, la nostra collaborazione funziona già da parecchi anni. Allora, noi siamo lieti di dargli la parola e il titolo del suo contributo porta questo titolo, Gesù, il Messia sposo, la testimonianza dei sinottici. Ecco. Grazie tante, professoressa Kalduk, di questa generosa presentazione. Ringrazio l'Istituto Biblico. È una grande gioia per me stare qui, sto pomeriggio, in questa istituzione, che ritengo la mia vera alma mater. Dunque ringrazio il padre Rettore, ringrazio anche il professore Luca Pedroli per questo interesse in organizzare questa giornata, questa seduta sulla nuzialità. Io sono arrivato al Biblico nel 1996, scusatemi questo dato biografico, voglio dire, padre Schoeckel, padre Alonso non insegnava più, però stava ancora qui. L'ho potuto conoscere a causa di mio padre, perché mio padre, quando era giovane, ha studiato per tre anni a Comiglia, sin Santander, e lui ha conosciuto un padre, Alonso Schoeckel, che era ancora maestrillo, e che si occupava dei ragazzi che studiavano lì, e allora ha iniziato con lui una grande amicizia, che dopo quando lui veniva a Roma lo andava a trovare, lui mi raccontava come padre Alonso suonava il pianoforte, e quando pioveva prendeva tutti i ragazzi, li metteva insieme, e suonando il pianoforte spiegava loro un'opera classica di musica. E questo a mio padre è rimasto. Dunque sono andato a trovarlo qualche volta, qui al Biblico a sua stanza, e posso dire che l'ho potuto conoscere, un vero profeta dell'Antico Testamento, ma nel nuovo, con quella barba e tutto quanto. Allora, per tutti questi motivi è una grande gioia trovarmi qui, tra voi. E appunto la figura del padre Alonso Schechel mi dà lo spunto per cominciare questa relazione, perché, come lui ha mostrato, la cristologia sponsale presenta nei sinottici una singolare rilevanza. In questo libro, che si può considerare, ritenere il suo testamento, potremmo dire, l'ho citato in spagnolo, mi hanno detto che in italiano è ormai esaurito. Purtroppo, qualcosa si dovrebbe fare, forse con il ventesimo, adesso, aiutare l'editrice PM, mi pare che dove stava, no? Comunque, in tutti i tre evangelici, in tutti i tre evangelici, questa tematica è in particolare il rapporto con la figura di Giovanni Battista, che per primo ha messo in rilievo questa dimensione sponsale dell'identità di Gesù. Ma l'impostazione nuziale della cristologia trova nel Vangelo di Matteo una rilevanza singolare. Il vocabolario stesso ne offre un segnale. Le nozze vengono menzionate diciassette volte di fronte a Marco, cinque volte, e a Luca, undici volte. Anche lo sposo, Ninfios, è molto più frequente, più frequente in Matteo che non in Marco e in Luca. ci sono due parabole specificamente matteane che vi fanno un riferimento esplicito, il banchetto di nozze e le dieci vergini. Di questa specificità di Matteo rende conto la bibliografia in merito. Procederemo dunque in due tappe per questa esposizione. Prima ci soffermiamo sulla testimonianza comune dei tre evangelici e poi incideremo specificamente su quello di Matteo. Per la prima tappa teniamo conto delle parole dei Giovanni e del dialogo di Gesù con Gesù dei discepoli di Giovanni. Per la seconda andremo su quelle due parabole indicate. Il percorso ci permetterà di capire fino a che punto la tradizione sinottica ha accolto come dato fondamentale della Cristologia, cioè della messianicità di Gesù, la sua identità come sposo, permettendone contemporaneamente, anzi, stimolando sviluppi particolari come quello di Matteo. Da notare sarà il riferimento radicale all'Antico Testamento dei passi studiati. Poi, alla fine, nella conclusione, diremo qualcosa sulla sposa. Dunque, la nostra prima tappa Gesù sposo. Ci sono due passi sinottici che presentano Gesù come sposo. Il primo in chiave enigmatica, il secondo in modo chiaro ma indiretto. La rivelazione diventa così progressiva anche nel contenuto. Nel primo passo ci sono solo lo sposo e Giovanni, nel secondo vi sono anche i figli del banchetto di nozze. E andando a quel primo passo, quel passo attestato da Matteo, Marco e Luca, secondo la testimonianza di Luca, che in questo punto coincide con quella di Giovanni, l'attività profetica del Battista, il Giordano, suscitò la domanda sulla sua messianicità. La questione si può indovinare implicita pure in Matteo e in Marco, dal momento che a un punto Giovanni sembra costretto ad annunciare la venuta imminente dietro di Medici di uno più forte di lui, che, diversamente da lui, che battezza soltanto con acqua, battezzerà in Spirito Santo o in Spirito Santo e fuoco. E allora che non senza l'enigma Giovanni aggiunge la propria inadeguatezza per sciogliere il laccio dei suoi sandali o portare i suoi sandali in Matteo. Come padre Alonso insieme con Pierre Proulx ebbe l'acutezza di mostrare a partire dalla versione di Giovanni, Giovanni introduce così la sua visione originale su Gesù. E qui citiamo padre Alonso se si riferisce al levirato e un po' di passo provocato dalla domanda dei suoi interlocutori. Prendendone lo spunto il battista impone la propria visione e l'evangelista utilizza il ricorso dell'enigma per introdurre il lettore nel nucleo del mistero messianico congiugale. Fine della citazione. Qual è il senso di questa espressione? Dopo i lavori di Alonso dovrebbe ritenersi ormai ragionabilmente stabilito o perlomeno venire criticamente valutato il loro sfondo leviratico cioè il riferimento ad Deuteronomio 25 versetti 5 a 10 la legge del levirato. Invece non è così. La bibliografia recente tace questo dato con qualche eccezione. Anche i commentari riflettono questa situazione. Quelli più estesi più profondi recenti su Matteo dei Vissali su Lutz non ne dicono niente di questa interpretazione neanche lo fanno altri commentari di diverse procedenze. È simile il panorama nei commenti su Marco e su Luca. Quella grand'opera il commentario sull'uso dell'Antico Testamento dal Nuovo Testamento di Bile Carson di dieci anni fa non ne facendo. L'interpretazione più diffusa vi vede un indizio dell'umiltà di Giovanni che non si ritiene degno di svolgere un ruolo servile riguardo a Gesù. Invece il solo paragone sinottico dei testi neotestamentari con quello del Deuteronomio mette in rilievo la somiglianza dei passi. Queste parole sono bisogna dirlo attestate non solo dai tre Vangeli ma anche dagli atti come possiamo vedere. Dunque Luca le presenta due volte e avete i testi davanti potete vedere come il greco del Deuteronomio Deuteronomio 25 9 con diverse varianti coincide in grosso modo con le versioni neotestamentari del detto del Battista le varianti del detto varianti spiegabili in prima istanza a partire dell'oralità della tradizione evangelica vengono tutte attestate dalle diverse menzioni patristiche e giudaiche del Levirato come Prulx e Alonso mostrarono in dettaglio nel loro studio in tutti e quattro i Vangeli dunque il detto sui sandali può ricondursi a un'origine comune come un'allusione ad Deuteronomio 25 7 al 10 le parole pur nella loro brevità sono enormemente significativi sin dall'inizio Gesù viene presentato a partire dallo schema del Levirato come il vero sposo di Israele che viene per assolvere il suo compito di sposare il popolo eletto con lo scopo di renderlo finalmente fecondo non tutti i particolari corrispondono evidentemente con lo schema del Levirato lo sposo di Israele non è morto ma il ripudio così parla Isaia Isaia 51 di colei che è rimasta sola e senza discendenza suppone una quasi vedovanza come spiega il padre Alonso la situazione di Israele è così tragica che Giovanni il Battista introdotto in tutti e quattro Vangeli alla luce di Isaia 43 in chiave di adempimento delle promesse presenta Gesù sotto la luce dello stesso Deutero Isaia come lo sposo Leviratico in parole sintetiche di padre Alonso nel suo libro quando le autorità cito quando le autorità suggeriscono che lui è il Messia lui lo rigetta ritenersi tale sarebbe supplantare quello che ha i diritti di sposo sottomettendolo al rito della Halitza lui non è soggetto abile non ha diritti equivalenti non è chicanos non è axios per portare via la sposa al contrario come Mosè come Giosuè è lui chi dovrebbe togliersi i sandali come amico dello sposo può preparare la sposa lavandola con l'acqua toccherà al Messia fecondarla con il dono dello spirito fine della citazione Gesù appare dunque implicita ma fortemente come lo sposo divino lo sfondo isaiano suggerisce con forza questa interpretazione Giovanni il Battista ha capito sin dall'inizio la vera dignità di colui che viene dietro di lui il suo particolare legame col deserto cioè col luogo dell'essodo e dell'alleanza rende comprensibile la sua insistenza sulla dimensione responsabile di Gesù il deserto è infatti il luogo del fidanzamento come ci ricordano questi testi profetici che stamattina abbiamo avuto l'occasione di commentare nelle diverse relazioni un tratto contraddistingue però il detto sui sandali nella tradizione sinottica di fronte a quella giovannea il suo collegamento immediato con altro detto della tradizione sul Battista quello del Battesimo con cui il più forte di lui battezzerà Israele e gli battezzerà in spirito santo e fuoco nei sinottici le due espressioni vengono insieme in Giovanni appare anche un'espressione simile ma in un altro momento questo Battesimo di Israele mira al frutto del mistero pasquale come suggerisce un altro detto nel Vangelo di Luca in cui Gesù parla di un Battesimo come elemento centrale della propria missione sono venuto a portare fuoco gettare fuoco sulla terra ricordiamo i sinottici mettono dunque l'identità nuziale di Gesù appena insinuata in stretto rapporto con il mistero pasquale allora assolverà Gesù definitivamente il ruolo riconosciutogli da Giovanni di sposo scatologico di Israele e andiamo così al secondo al secondo passo sinottico pure lui presente pure esso presente nei tre Evangeli quello della domanda dei discepoli di Giovanni quest'ultima osservazione riguardo al detto sui sandali ci accompagna nel nostro andare avanti fino ad un noto episodio sinottico della vita pubblica di Gesù la sua risposta alla domanda sul digiuno con le varianti tipiche di una primissima trasmissione orale tutti e tre i Evangeli coincidono nel contenuto della risposta in essa è lui stesso e Gesù a riconoscersi come lo sposo e il riferimento alla passione diventa ormai più chiaro chi sono i domandanti tutti e tre i Evangeli menzionano i discepoli di Giovanni anche i farisei o i discepoli dei farisei solo Matteo però mette esplicitamente la domanda sulle loro labbra sulla labbra dei discepoli di fronte a un plurale anonimo gli dicono gli dissero il Marco e Luca i discepoli di Giovanni riappaiono il Matteo e Luca rivolgendo anche questa volta commissionati dal loro maestro una domanda a Gesù il rapporto con Giovanni aiuta a capire la risposta di Gesù infatti essa sorprende perché la tematica nuziale non è stata accennata nel contesto precedente può capirsi però come una prosecuzione logica del detto del Battista sui sandali i discepoli di Gesù sono chiamati adesso i figli della camera nuziale attraverso questo forte semitismo il cui senso preciso viene discusso secondo il valore che si dia alla parola ninfon che sia la camera nuziale oppure la sala del banchetto nuziale c'è discussione riguardo a questa parola ma comunque sia il senso preciso che convenga a riconoscere in questo termine mette i discepoli che sono menzionati i discepoli di Gesù menzionati dalla domanda introduttiva in diretto rapporto con le nozze del ninfios con le nozze dello sposo Gesù manifesta così la natura del presente kairos la natura del momento presente si sono avviate le nozze scatologiche Gesù suggerisce così l'adempimento delle promesse bibliche riguardanti le nozze di Dio con il suo popolo la menzione poi del digiuno e del non digiuno mette queste promesse in rapporto con il tema del banchetto scatologico attestato dal profeta sarebbe assurdo in questo contesto di festa proclamare il digiuno gesto di penitenza e di supplica se secondo le tradizioni rabbiniche il giorno delle nozze il digiuno è vietato quanto più se sono le nozze del Messia adesso è il momento di gioire cioè digiunare nelle nozze sarebbe quasi un insulto verso coloro che si sposano il momento di gioire il momento di mangiare e di bere arriverà però il tempo per digiunare quando lo sposo verrà a mancare pure in maniera violenta quando si è tolto lo sposo anche se c'è una tesi discursa qua dieci anni fa di Lanfranco Fedrigotti che interpreta questo essere tolto non in senso passivo ma in maniera attiva quando se ne sarà andato diceva lui comunque ciò che è evidente è che verrà a mancare il detto il detto di Gesù poi non va isolato dal contesto dal contesto successivo che gli sta intimamente collegato quei detti sul sul vino nuovo cioè così vengono sottolineati due aspetti il rapporto con la nuova alleanza suggerito dalla frequenza dei termini vecchio e nuovo e la dimensione conviviale che implicita nella metafora nuziale diventa esplicita nel vino nuovo questa dimensione collega la pericope con quella precedente ricordiamo la vocazione di Matteo il banchetto successivo in casa dei peccatori ed evoca anche il banchetto messianico di Isaia 25 ambedue i tratti permettono pure di leggere questa pericope in rapporto con l'istituzione dell'eucaristia come hanno fatto recentemente alcuni autori non possiamo neanche ignorare in questo senso la tematica del vestito Matteo 9 16 così rilevante nella parabola matteana del banchetto nuziale come sappiamo le monografie dedicate recentemente a questa pericope quella di Fedrigotti soprattutto in Matteo quella di Tait su Marco mettono in rilievo la high Christology la Christologia alta che si manifesta in queste parole Gesù è lo sposo divino lo sfondo profetico induce a vedere in lui lo stesso Signore e poi una particolarità della letteratura biblica tardiva e delle fonti rabbiniche la sua identificazione con il Messia così lo sfondo vetero testamentario diventa nel suo insieme chiave di lettura di queste parole che diventano allora inspiegabili senza di esso quello sfondo permette di capire in particolare chi sia la sposa sorprendentemente ausente di queste nozze la sposa è Israele scatologicamente raccolto da Gesù come viene simbolizzato dai dodici anzi secondo l'interpretazione del già menzionato Fedrigotti in Matteo la sposa sarebbe la mia chiesa in quelle parole di Gesù di Gesù Matteo 16 18 torneremo sulla questione della sposa ma andando infine sul rapporto con la pericope precedente più stretto in Matteo questo rapporto che non in Marco è interessante tener conto che recentemente questo fatto è stato messo in rapporto con la dimensione nuziale del detto di Gesù in Matteo 9 15 come ricordiamo in Matteo 9 13 Gesù cita Osea 6 6 il pranzo il banchetto di Gesù in casa dei peccatori lo riportano tutti e tre sinottici solo Matteo però cita misericordia voglio non sacrifici quel versetto di Osea 6 che dopo anche viene a citare ancora una volta in Matteo 12 dunque l'uso di questo versetto di Osea in Matteo 9 13 andrebbe inteso allora come un indicatore per il lettore che così potrebbe capire la metafora nuziale di Matteo 9 15 come pretesa di svolgere il ruolo del divino sposo di Osea di Osea 2 16 l'osservazione fatta da un investigatore recente non banca di interesse e ci permette di indagare la peculiarità del primo Vangelo in sintesi le parole di Gesù in Matteo 9 15 e paralleli Marco 2 e Luca 5 ci offrono nei Vangeli sinottici una densa sintesi dell'identità e della missione di Gesù Messia in continuità con le parole iniziali del Battista e anche in rapporto con lui Gesù ricorda qui padre Alonso Shekel Gesù si identifica con il Messia sposo che invita i suoi amici i discepoli a godere della presenza dello sposo andiamo dunque adesso in un secondo momento a presentare brevemente questo sviluppo specifico di Matteo le due parabole in cui Gesù l'identità esponsale nuziale di Gesù viene approfondita come già detto Matteo sviluppa in modo particolare la dimensione esponsale del Messia Gesù e lo fa specialmente attraverso due parabole a lui e proprie che riprendono l'argomento delle nozze la prima parabola ha un parallelo lucano come sappiamo Luca 14 infatti lo abbiamo letto nella liturgia la settimana scorsa però è un abbastanza diversa anche un parallelo sostanziale però Matteo infatti il tratto nuziale è specifico di Matteo nella parabola sono le ultime queste due parabole sono le ultime delle dieci parabole del regno presenti in questo Vangelo tutte e due le parabole ci presentano il dramma di coloro che non vengono accettati al banchetto tutte e due però sottolineano alla stessa volta l'invito a parteciparvi prima di tutto la parabola degli invitati al banchetto di nozze Matteo 22 1 14 la prima parabola è il passo nuziale per eccellenza nel primo Vangelo il termine nozze gamos greco compare nove volte in Matteo di cui otto in questa parabola il tema del banchetto nuziale ci rimanda a Matteo 9 15 anche il motivo degli assistenti al banchetto collega i due passi prima però i figli del banchetto cioè i discepoli apparivano sotto una luce positiva adesso ci si parla di una sala riempita di commensali anche se la parabola si incentra sui chiamati che non vogliono accettare l'invito o non se ne dimostrano degni allora si suggeriva la possibilità di una reazione inadeguata dal banchetto dei nozzi il digiuno adesso si riflette sul rifiuto a parteciparvi ambedue i temi banchetto e invitati sono comuni con la versione lucana della parabola Luca 14 comuni sono anche il riferimento al regno più chiaro in Matteo ma presente pure in Luca con quella beatitudine iniziale che introduce la parabola non è comune però il motivo noziale come dicevo che invece diventa molto significativo nel contesto del primo Vangelo già che il contesto familiare proprio delle nozze permette anche di introdurre dei rapporti familiari così la parabola in Matteo diventa chiaramente cristologica il re che celebra un banchetto di nozze per il suo figlio queste tre parole che sono in corsivo sono tre tratti assenti da Luca cioè questo motivo mira chiaramente al padre il padre che in Matteo 5 nel discorso della montagna è stato chiamato il grande re e che anche nella parabola dei vignaioli omicidi quella immediatamente precedente in Matteo 21 alla fine era simboleggiato dal patrone della vigna e invia per ultimo il suo figlio Matteo 21 37 dunque è chiaro come questo rapporto del figlio con il re introduce il tema cristologico e teologico molto fortemente nella parabola che in Luca è diverso ci sono altri due momenti in cui Gesù descrive il regno del padre come un banchetto la guarigione del figlio del centurione Matteo 8 11 e l'ultima cena parlando di quel vino che berrà ancora soltanto nel regno del padre Matteo 26 29 nel presentare però il motivo veterotestamentario del banchetto escatologico che abbiamo già menzionato diverse volte nel motivo però di presentare questo motivo del banchetto come un banchetto nuziale Gesù supera le fonti giudaiche e una sua originalità questo ha a che vedere con lo sviluppo matteano della parabola se ci devono essere altri invitati dopo il rifiuto dei primi non è semplicemente affinché il cibo non venga sprecato e perché si sposa il figlio del re il tenore generale della parabola insiste sulla serietà dell'invito e della responsabilità che ne suppone l'accoglienza sottolineando le disastrose conseguenze del rifiuto la simbolica delle vesti ha un significato etico chiaro riguarda le opere di giustizia che nella profezia del giudizio finale sono requisiti indispensabili per l'accoglienza del regno come si mostra chiaramente alla fine del discorso scatologico di Gesù il fatto però di coloro che non possono prendere parte al banchetto per il loro rifiuto e violenza la prima volta o per la loro indignità la seconda volta non ci deve far dimenticare il messaggio principale il regno dei cieli è una grande festa anuziale a cui tutti quei molti dei 22 14 sono invitati malgrado i tanti fallimenti la sala si riempì di commensali si dice nel versetto 10 e come commenta giustamente Isidro Comà Civit autore di un commentario a Matteo solo in spagnolo purtroppo perché veramente valido in due volumi il tono di severità redazionale così proprio di Matteo con cui si chiude questo supplemento finale della parabola non annulla l'affirmazione sostantiva il fatto che gli altri commensali del re per il mero fatto di non smettere di esserlo sono già situati alla luce della gioia escatologica fine della cita della citazione ancora una volta lo sposo escatologico non è più il Signore ma il Messia questo fatto però invece di suggerire uno sposo di categoria inferiore assume rilevanza cristologica questo Messia come sappiamo dal Vangelo è il Signore salva è Emanuele Dio con noi è il figlio amato dal padre del padre il Messia è dunque lo sposo divino come figlio fa presente suo padre in lui Dio stesso si manifesta sposo di Israele nel figlio Gesù Dio celebra le sue nozze con l'umanità dice Nalpatilcira questo autore che ha fatto una tesi qui al biblico appunto su questa parabola così viene rivelata la vera natura del regno dei cieli inaugurato da Gesù una commensalità con il figlio in presenza del padre andiamo alla seconda parabola la seconda parabola noziale le vergini e lo sposo la seconda parabola noziale propria di Matteo in rapporto lessicale con i passi noziali precedenti infatti il termino sposo ninfios appare solo in Matteo 9.15 cioè la risposta ai discepoli di Giovanni in Matteo 25 1.10 e la parola gamos noze compare solo nelle due parabole Matteo 22 e Matteo 25 dunque è chiaro il rapporto di questa parabola con i detti noziali precedenti avviene però in un contesto segnatamente scatologico il discorso scatologico di Matteo il fatto di venire introdotta da una doppia indicazione di futuro prima questo allora con che comincia perché fa riferimento alla fine di Matteo 24 che era un riferimento scatologico e poi il regno dei cieli si assomiglierà in futuro le dieci parabole del regno in Matteo vengono introdotte dalla stessa formula con diverse varianti questa è però l'unica volta che il verbo compare in futuro normalmente appare in presente o in auristo però in quest'ultima parabola del regno il riferimento scatologico è evidente anche da questi tratti lessecali questo fatto mette in grande rilievo questo dato la parousia di Gesù cioè del Messia del figlio dell'uomo del Signore avrà una forma nuziale sarà l'arrivo dello sposo è grande la somiglianza di fondo con la parabola del banchetto anch'essa parabola del regno celebrazioni di nozze alcuni nel primo caso gli invitati nel secondo caso cinque delle dieci vergini alcuni che vi che vi prendono parte e altri che vengono esclusi c'è poi in tutte e due le parabole un elemento simbolico che determina in chiave etica il destino finale il vestito la parabola di Matteo 22 l'olio nella parabola di Matteo 25 quest'ultimo dato riceve però nell'ultima parabola una sfumatura importante perché se l'orizzonte è quello di partecipare alle nozze allora le buone opere simboleggiate dall'olio sono l'opere dell'amore opere di un amore attivo che vengono capite come espressione di affetto noziale impossibile qui non rimandare all'inizio del cantico questo libro biblico che stamattina ci ha accompagnato lungo tutte le relazioni la figura delle dieci vergini non è separabile di quella della sposa si vede qui lo sfondo del salmo 45 di cui ci ha parlato padre barbiero la gape è necessario per la salvezza una gape che negli ultimi tempi si raffredderà in tanti profetizza Gesù ha dunque una dimensione sponsale notiamo infine che al centro della parabola si trova l'invito alle vergini ecco lo sposo andategli incontro il fatto che cinque di esse non si siano adeguatamente preparate non toglie forza alla chiamata che è un invito aperto e universale tutte e dieci vengono chiamate a partecipare della gioia sponsale vediamo dunque come tutto il Vangelo di Matteo viene percorso da questa tematica nuziale sin dalle prime parole del Battista in Matteo 3 fino alla fine della predicazione di Gesù Matteo 25 attraverso queste due parabole Matteo culmina l'analogia esponsale introdotta dai primi passi cui studiati che sono comuni con gli altri sinottici infatti si era presentato lo sposo e si era avviato il banchetto nuziale ma quelle nozze avviate nella vita terrena di Gesù non erano piene già che attendevano ancora lui la dolorosa separazione attendeva scusate ancora lui la dolorosa separazione quella partenza pure annunziata in questi passi Matteo presenta l'incontro scatologico con Gesù come la festa nuziale definitiva il momento dell'abbraccio che niente potrà sciogliere attingendo così alla tradizione cristologica ecclesiale che nell'epocalisse di Giovanni trova la sua espressione più riuscita Don Luca ci parlerebbe a lungo su questo argomento attingendo così a questa tradizione il primo Vangelo presenta la parousia del figlio dell'uomo come il compimento definitivo della promessa di Dio quella promessa di sposare il suo popolo negli ultimi giorni rendendolo così escatologicamente fecondo e arriviamo così alla nostra conclusione nozze senza sposa nelle due parabole matteane abbiamo visto manca la sposa mancava pure nei detti sui sandali nella risposta di Gesù alla domanda sul digiuno attestata dai tre sinottici è un grande paradosso riconosciamolo la sposa è protagonista necessaria delle nozze il paradosso è ancora più sorprendente se teniamo conto di un testo biblico che fa parte della retroscena dell'analogia noziale evangelica il salmo 45 gli ha menzionato di cui la sposa è un personaggio principale ma la sposa è veramente assente dai testi evangelici non è così abbiamo accennato prima in proposito del passo sul digiuno in modo simile Renzo Infante in una interessante monografia suggerisce riguardo a Matteo 22 e cito il testo evangelico non esprime alcuna identificazione ma solo velatamente lascia intuire che la sposa la sposa possa identificarsi a livello simbolico con coloro che prepareranno se stessi in maniera adeguata per la festa con un abito noziale degno dello sposo fine della citazione e poi scrivendo su Matteo 25 lo stesso autore cito per molti autori antichi e moderni la sposa è da identificarsi con le dieci vergini il numero dieci indica una moltitudine completa e consente di giocare con due tipi di atteggiamento la saggezza e la stoltezza lo sposo arriverà certamente ed in maniera inaspettata nell'attesa la chiesa rappresentata dalle dieci vergini è sposa tuttavia uxor facta est è sicura l'unione è già cominciata fine della citazione Renzo Infante segue così le orme di Alonso che a sua volta affermava sulle dieci vergini questa volta sono esse la sposa le spose tutti questi dati ci permettono di capire perché nei diversi passi inuziali dei Vangeli sono così rilevanti rispettivamente Giovanni Battista nel primo passo i figli del banchetto di nozze nel secondo gli invitati nella parabola di Matteo 22 e le vergini nella parabola di Matteo 25 in essi viene raffigurata quella sposa che è l'Israele fedele e alla volta la Chiesa pienezza del popolo eletto Paolo dirà ai Corinzi usando la stessa immagine io provo infatti per voi una specie di gelosia divina vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta qualcosa di simile succede a Cana dopo ce ne parleranno ove come pur indicato da padre Alonso il vero sposo non è quello che appare nel racconto ascoltatore muto e senza iniziativa ma Gesù dice Alonso su questo passo in queste nozze gli sposi sono anonimi non intervengono lo sposo soltanto compare per ascoltare il maestre Sala arriva al primo piano soltanto per contrasto con Gesù è Gesù il vero sposo capace di trasformare l'acqua delle purificazioni esterne nel vino dell'amore e della gioia dunque è Gesù il vero sposo anche lì c'è una presenza misteriosa della sposa in Cana nei testi sinottici sulle nozze messianiche infine la sposa è presentissima per scoprirla bisogna solo avere occhi che vedano orecchi che odano e cuore che comprenda ho iniziato ringraziando finisco ringraziando della vostra attenzione grazie 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 a tutti.